Buongiorno, oggi è il 19 gennaio 2024 e vado a fare adesso, nell'ambito della rubrica della memoria, una brevissima lettura di un post che scrissi il 16 settembre 2019 intitolato La Doppia Morale. Il tradimento del Movimento 5 Stelle è ormai scritto nei libri di storia, è storia. Dietro la giustificazione del non volere essere ideologici è andata in scena da parte del Movimento 5 Stelle, l'alleanza con Salvini, poi l'inciucio con Renzi, ora l'abbraccio tragico con Zingaretti. Si afferma la doppia morale, il triplo salto mortale carpiato rovesciato, non c'è mai una verità a cui attaccarsi. Si afferma la doppia morale, si afferma forse la tripla morale. Chissà quante evoluzioni da circo vedremo ancora a danno di una massa di cittadini che avevano chiesto solo una cosa, dirittura morale. Di Maio, due punti. Salvini ha pugnalato alle spalle il Movimento 5 Stelle e il Paese. Io e tu hai pugnalato alle spalle quelli che avevano votato per te contro l'Euro, contro l'Europa, contro l'austerità, contro Salvini e contro il PD. Alla prossima. Grazie.